il tiro con l'arco è integrazione rispetto e lealtà attenzione verso l'ambiente concentrazione e precisione spirito agonistico e disciplina il tiro con l'arco è uno sport corretto praticato in un ambiente sano che ti responsabilizza e ti educa a vivere da campione nella vita e nello sport il valore formativo del tiro con l'arco educativo e sociale rende questa disciplina un vero e proprio patrimonio da custodire e valorizzare ed è uno sport che educa uno sport che abbatte ogni barriera ed è uno sport soprattutto ecologico e che si evolve continuamente e come ad ogni quadriennio la nazionale italiana è presente alle olimpiadi alle paraolimpiadi con la speranza di prendere la mira giusta e fare centro come negli anni passati io ho diciamo fortemente voluto accogliere questo invito da parte della federazione italiana tiro con l'arco della insomma dell'essere abbastanza vicino a tutte le loro iniziative proprio perché da piccolo come ho avuto modo di dire durante la conferenza stampa a sanremo subito dopo la vittoria ho avuto modo di praticare questo sport e questa disciplina che è veramente così come detto nelle nelle frasi prima integrante di altissimo livello sotto un punto di vista educativo quindi sono contento di accogliere l'invito della fitarco e sarò vicino a qualsiasi tipo di iniziativa e farò sempre il tifo per per questo sport e per la nazionale italiana ciao da gaudiano grazie a tutti grazie a tutti